Io per prima, quando è stato proposto questo programma, ho detto, ma arpa, tono e danno sono due cose che mi sembravano incompatibili. Invece sarà un concetto bellissimo, perché riusciranno a mettere insieme la musica di uno strumento con quella di un altro strumento, amalgamando e superando la differenza tra questi due strumenti. Grazie. 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 Grazie.